Scrooge venne svegliato dall'orologio a luna di notte, si alzò di colpo sul letto e si trovò faccia a faccia con un fantasma. Sono il fantasma del Natale passato, del tuo passato Scrooge, alzami e vieni con me. Il fantasma lo prese per un braccio e si trovavano insieme nella strada di un villaggio. Santo cielo, gridò Scrooge, ma io questo posto lo conosco, ci ho vissuto da bambino e quel ragazzo nella scuola sono io, quando avevo nove anni. Anche qui ci sono già stato e quella ragazza sul sofà, vedi il fantasma, vedi quanto è bello. Dovevo sposarla al tempo, ma io ero troppo interessato al denaro più che a lei. Portami a casa, portami a casa il fantasma, non posso sopportare tutto questo, non posso cambiare il passato. Quando annunciate queste parole, Scrooge si trovò nuovamente nella sua camera da retta, era esasta e crollò immediatamente attormentato.